Questa città, è bene dirlo, ha già più posti disponibili che bambini e bambine che possono partecipare a progetti educativi, cioè noi abbiamo più posti di bambini. Un'organizzazione nuova dei nidi Peter Pan e Masaccio è la decisione di non attivare nuove sezioni all'Orciolaia. Queste le due azioni principali della riorganizzazione dei servizi educativi per l'anno 2018-2019 nel comune di Arezzo. Una delibera portata in consiglio dall'assessore alle politiche educative Lucia Tanti ed approvata dall'assise con 17 voti favorevoli e 6 contrari. Noi dal 2015 ad oggi abbiamo sostanzialmente assunto 15 nuovi educatori, quindi l'impegno di mantenere il servizio a gestione diretta nel rispetto di un servizio integrato è stata rispettata direi alla grande. Ma quello che sicuramente farà più discutere, c'è da scommetterlo, è il tetto massimo 20% di studenti stranieri per ogni classe. Una misura non contenuta nella delibera ma che l'assessore sta valutando assieme ai dirigenti scolastici. Riteniamo che i sistemi vadano governati. Siccome in questa città c'è un plesso che vede un numero di bambini immigrati eccessivamente presenti, il che determina delle sperequazioni dove ci sono classi, dove c'è un 50% di bambini italiani e un 50% di bambini di altre etnie, quindi non di una sola ma di altre, creando problemi addirittura per la configurazione di pacchetti formativi così non si fa integrazione, così si fanno i ghetti. Nella città di Arezzo con la giunta Ghinelli i ghetti non ci sono. Noi oggi in quel caso abbiamo fatto una proposta che è quella di orientare, noi non possiamo obbligare, ma orientare sì ad una gestione consapevole del fenomeno migratorio che significa che questa città non vuole classi ghetto e mentre ci sono scuoli in questa città dove la presenza di bambini immigrati è eccessiva rispetto a un sistema che integra veramente e porta a una scelta che è una reazione, cioè che molti altri se ne vanno. Questo non si può fare. Bisogna che l'integrazione sia vera, sia solida, sia strutturata e avviene attraverso dei parametri che non possono superare il 20-25%. Peraltro in questa città ci sono il 15% di immigrati, quindi è del tutto sperequato che ci siano classi con oltre il 52%. Grazie.